Dopo aver fatto un salto a Oriente, a dare un'occhiata all'impero romano d'Oriente, ritorniamo in Italia e vediamo cosa succede dopo la conquista dell'Italia da parte dei bizantini. Dopo la conquista dell'Italia da parte dei bizantini arrivano i Longobardi. Da dove arriva questa popolazione? E' una popolazione germanica che arriva dalla Scandinavia, nel II secolo d.C. si trasferisce in Germania e si stanzia in Pannonia, l'attuale Ungheria, nel V secolo, dopo essersi alleata con altre popolazioni, gli Unni, gli Avari, i Visigoti. Successivamente, a causa di conflitti con queste popolazioni, i Longobardi decidono di spostarsi in Italia, arrivando dal Friuli Venezia Giulia, nel VI secolo d.C. Da dove viene il nome Longobardo? Ci sono due ipotesi, o che venga dalle parole germaniche Langbart, che vuol dire dalla lunga barba, o dalle parole germaniche Langbarte, che vuol dire lunga lancia. Comunque sia, il nome italiano è Longobardi. Guidati dal re Alboino nel 568, arrivano in Italia, sono circa 250.000. La maggior parte di loro sono donne e bambini, tuttavia riescono ad occupare molti territori bizantini. Come potete vedere, l'Italia centro-settentrionale e l'Italia centro-meridionale. Quindi l'Italia si trova divisa in due, l'Italia del nord e la Toscana, e l'Italia del centro-sud, con capitale Pavia, vanno ai Longobardi. Mentre la Romagna e alcune parti dell'estrema Italia meridionale rimangono ai bizantini. La prima parte verrà chiamata Longobardia, la seconda parte Romania, perché sono eredi dell'impero romano. Quali sono gli usi e i costumi di questi Longobardi? Intanto potete vedere l'Italia, che è divisa la parte marrone, sono i Ducati Longobardi, Ducato del Friuli, Ducato di Sponeto e Ducato di Benevento. La parte in viola è contesa tra i bizantini e i Longobardi. Qui nel Lazio abbiamo lo stato della chiesa e poi queste altre parti bianche appartengono sempre ai bizantini. Dopo la morte di Alboino nel 572, i duchi che governavano i diversi Ducati Longobardi, governavano in maniera violenta, erano sempre in guerra tra di loro e non cercavano di convivere pacificamente con le popolazioni italiche. La parola duca viene dal latino dux, che vuol dire condottiero. Così nel 591, quando diventa re Agilulfo, comincia a mettere pace tra i diversi duchi Longobardi, mentre sua moglie Teodolinda, d'accordo con il papa Gregorio Magno, nel 616 comincia a convertire Longobardi al cattolicesimo. Prima erano cattolici ariani, avevano aderito all'eresia di Ario, facendoli convivere così pacificamente con gli italici. Quello che sembra un gesto di conversione, un gesto di bontà da parte di Teodolinda e del papa, in realtà ha un grande valore politico, perché il fatto di poter governare su una popolazione con la stessa religione avvantaggiava sia Teodolinda, che poteva governare sia sulle popolazioni italiche che su quelle Longobardi, e sia il papa, che riusciva, grazie a questo, ad avere più potere anche sui Longobardi, che ormai erano diventati cattolici. Ma i Longobardi erano pur sempre una popolazione germanica, una popolazione barbarica, avevano queste usanze un po' strane, queste leggi un po' bizzarre, ricordate la Faida, l'Ordalia, tramandate oralmente. Quindi Rotary fa un altro passo avanti verso l'integrazione tra il popolo Longobardo e il popolo italico. Fa mettere per iscritto le leggi Longobarde, per iscritto in latino, quindi accessibile anche agli italici, queste leggi che fino ad allora erano tramandate oralmente. Ovviamente rende queste leggi più simili a quelli romani, diciamo ripulendole dalle elementi barbarici, facilitando così la convivenza tra Longobardi e italici. Per esempio, nel documento scritto dell'editto di Rotary del 643, scritto in latino, ricordiamo, sostituiva la vecchia usanza della Faida, ossia la vendetta privata, chiunque, ricordiamo, tra i germani commetteva un reato, poteva essere ucciso dal suo contendente. Invece, in questo editto, la Faida viene sostituita dal Guidrigildo, cioè un risarcimento in denaro per l'offesa subita. Così queste leggi diventavano un po' più civili e potevano essere accettate anche dalle popolazioni italiche. Un altro passaggio importante della storia dei Longobardi, che ricordiamo hanno governato per due secoli in Italia, è la donazione di Liut Prando. Chi è Liut Prando? Liut Prando è un re Longobardo che nel 728 attaccò Ravenna e Lazio per congiungere i possedimenti Longobardi del nord, del centro e del sud. Papa Gregorio II non ci stava a questo attacco dei Longobardi e si precipitò per fermarlo. Quindi Liut Prando, per tranquillizzare il Papa, regalò alla chiesa il castello di Sutri e il suo territorio nel Lazio. Questa donazione è molto importante perché è la prima volta che un re cedeva un territorio al Papa, facendolo diventare così un suo pari, quindi un sovrano. In questa epoca, nel 728, nasce lo Stato della Chiesa, che durerà fino al 1861, cioè all'unità d'Italia, quando sarà ridotta solamente la città del Vaticano. In questo Stato della Chiesa il Papa governa proprio come un sovrano. Liut Prando però, dopo questo gesto simbolico, nel 742 riprende ad attaccare lo Stato della Chiesa e questa volta conquista anche Roma. Ma, a causa della sua morte avvenuta nel 744, non riuscirà mai a unificare i territori Longobardi del Nord e del Sud e quindi il Regno Longobardo rimarrà spezzato in due. Cosa hanno lasciato all'Italia i Longobardi? Innanzitutto, la statura, cioè la statura media dei Romani e degli Italici prima dell'avvento dei Longobardi era intorno a un metro e cinquantacinque. Dopo l'arrivo dei Longobardi, il cui regno durò, ricordiamolo, due secoli, la statura media in Italia divenne di circa un metro e settanta, soprattutto nelle regioni del Nord. Qui potete vedere una tomba Longobarda con le notevoli dimensioni dello scheletro. Oltre a questo, i Longobardi portarono in Italia la tecnologia del ferro. Riuscivano a costruire lunghe spade più resistenti, in modo che non si spezzassero, e con delle lame affilatissime. La spada tipica dei Longobardi è questa che vedete nell'immagine, la Scramasax, che poteva ferire il nemico anche di lato, grazie alla lunghissima lama affilata, e quindi poteva colpire il nemico anche a cavallo, mentre la precedente Gladio, la spada corta romana, per ferire doveva colpire frontalmente il nemico, perché aveva solo la punta accuminata e non aveva lame molto taglienti. Quindi queste sono le principali eredità dei Longobardi. Queste spade, poi perfezionate, consentiranno ai franchi guidati da Carlo Magno di conquistare di nuovo un grande impero. Arrivederci!